29 giugno I figli sono un dono che viene dal Signore. Salmo 127.3 Una preghiera per i tuoi figli. Quando qualcuno ti ama abbastanza da lasciarti un'eredità, dovresti farne tesoro e trattarla in modo da onorarlo. La Bibbia dice che i figli sono un dono del Signore, una sua eredità. Quindi ecco una preghiera per loro. Signore, non ho parole per dirti quanto sia benedetto e grato per i miei figli. In ognuno di loro riconosco un tuo prezioso regalo. Me li hai dati per amarli e averne cura, per gioire e celebrare, per allegrarmi in loro e crescerli, perché ti conoscano come la più grande eredità di sempre. Grazie perché nessuno, nemmeno io, potrà mai far loro tanto bene quanto ne fai tu. Poiché mi hai dato il privilegio e la responsabilità di condurli a te, insegnami l'importanza di portarli ogni giorno in preghiera davanti a te. Tieni li al centro del tuo amore e dello scopo progettato per loro. Benedicili con la conoscenza di chi sei. Aiutali a riporre la loro fiducia in te e a rimanere sul sentiero della vita che hai pensato per loro. Consentigli di riconoscere i loro doni e la loro chiamata, di seguire la tua guida mentre li fai crescere e li usi per la tua gloria. Fai splendere il tuo volto su di loro, la tua grazia sia con loro, e il tuo amore abbondi in loro. Ti prego nel nome di Gesù. Amen. I tuoi figli servono il Signore? Se non è così, fai tu a questa promessa biblica. C'è speranza per il tuo avvenire. Dice il Signore, i tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. I principi che sono stati loro insegnati. Geremia 31, 17 Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.